Buongiorno, benvenuti da DB Motors Luxury Cars Torino, come vediamo adesso vi presentiamo un bellissimo esemplare di Ferrari FF, auto praticamente pari al nuovo, novembre 2011, solamente 15.000 km percorsi, macchina veramente in condizioni strepitose, pari al nuovo, auto di listino che supera i 350.000 euro. Ora vi faccio vedere gli accessori, la scheda tecnica, come vedete qua alla DB Motors è tutto trasparente, auto con intendi in carbonio, telecamera, televisore, sedili elettrici riscaldati, veramente auto irresistibile. Venite alla DB Motors a provarla, toccarla con mano e soprattutto vedere la realtà delle varie auto che abbiamo in esposizione.